Stiamo registrando e tu metti musica C'è forse la più strana della storia Ok Bella a tutti ragazzi Qui è Caffo d'Oro Sono Carlo E oggi faremo il video E io che sono? E io che sono? Non si sa Non si sa Non si sa Peggio di canti Madonna Incazzo Vai Perfetto Ok Vai Bella ragazzi Aspetta che non ci vedo Aspetta Ah vai Ma va Ma tu proprio Va comincia tu Ragazzi va Vai Bella a tutti ragazzi Sei Caffo d'Oro Io sono Carlo E te li vedi i nostri video Caffo di merda Vai vai Bella a tutti ragazzi Qui è Caffo d'Oro Semmi un cazzo di morto Semmi Stiamo un cazzo di morto Ragazzi Qui Caffo d'Oro Sono Carlo E che allegria Qui Ah Caffo d'Oro Salve a tutti ragazzi In che senso? Salve Sembra rovespa Salve 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 Vai Bella a tutti ragazzi Qui è Caffo d'Oro Sono Carlo E oggi faremo il video E io che sono? Chi è? Io che sono? Non si sa Non si sa Peggio di canti Madonna Vai Sì vai Sì vai Bello a tutti ragazzi Qui è Caffo d'Oro Sono Carlo Con Francesco Ma perché? Zitto 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 Bello a tutti ragazzi Qui è Caffo d'Oro Sono Carlo Zitto 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 Scrizione No Allora Vi ho detto che il link Devo lasciare perché? Perché? Lasciate il link Allora Devono scrivere Che cosa? Hashtag mi sponsorizzi Più 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 Mettiamo Hashtag Caffo d'Oro Non lo so Mi sponsorizzi Non lo so Allora Devono mettere Mi sponsorizzi Punto interrogativo Uno però Uno Se ne mettono due Non mi sponsorizzo più Può ne so E poi Che devono fare? Devono Mettere mi piace Like Si dice like Non ti usa più mi piace Una cosa molto importante Devono i i i i I I Alleluia Cazzo alleluia Se fate un video Sul nostro canale Sarete messi in una lista Come sempre di Dementi Sarete messi in una lista di preferenza E noi faremo insomma Una spositazione un po' più approfondita Sul vostro canale Mi raccomando Seguiteci Commentate Per suggerimenti Anche insomma Questo diciamo che è anche un Un piccolo blog Blog Come si chiama? Blog A merda Un video così Un video così Un video Io non l'ho mai capito Perché uno dice vlog Uno fa bj dice vlog Poi per l'altro oggi faccio un uomo blog Cazzo si chiama sta cosa? Possiamo chiudere anche i video Salute il pubblico Ricordatevi ragazzi Ovviamente sempre di rimanere attivi sul canale Però eh Di iscriversi L'ha già detto lui 22 volte l'ha già detto 22 Si iscrivono Si E non vi cangiallate Andate sulla merda di pagina di facebook Link in descrizione Le cazzo di volte E anche link di instagram Sempre Le cacciamo Tanno ormai Non mi servono più Fai Chiudi E ora chiudi Puoi chiudere Chiudi come si chiude? Qui da Carlo Francesco Eugenio E tutto Ci rivediamo nel prossimo video Fai tu fai tu Caffodoro e io faccio saddaclunge Vai Qui è tutto da Caffodoro Allora 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 Io ho detto qui da Carlo è tutto Qui da Caffodoro è tutto Che cazzo c'entra? Che cosa ho detto io? Vai Qui da Carlo è tutto Qui da Caffodoro è tutto Allora Allora Dici soltanto qui da Carlo Francesco Eugenio è tutto E' più bello Vai Qui da Carlo Francesco Eugenio è tutto Ci rivediamo Ci vediamo al prossimo video di Caffodoro Bella Pensavo di un altro canale Bella Sata clunge